Disinformazione, fake news, come armi. Si stanno combattendo due guerre parallele in Ucraina. Una guerra attraverso le armi tradizionali, una guerra cercando di inviare le truppe d'assalto per cercare di bloccare la resistenza ucraina e dall'altra parte invece immettere sul mercato delle informazioni tantissime notizie false, notizie che in qualche modo possono andare a sconvolgere anche chi è invaso. E gli stessi giornalisti, gli stessi inviati che stanno utilizzando le tecnologie per raccontarci questo conflitto ammettono che devono dribblare ora dopo ora le notizie false e non è molto facile. L'altra cosa assolutamente nuova rispetto alle guerre precedenti è il fatto che esiste una vera e propria disintermediazione. Ci sono i cittadini e le cittadine ucraine che stanno documentando dai loro balconi con centinaia di filmati quello che sta accadendo, come i russi si stanno comportando e anche addirittura fanno vedere come i stessi uomini di Putin indossano delle divise ucraine per cercare di destabilizzare, per cercare di catturare i nemici. In tutto questo si sta creando una grandissima apprezzione anche nel nostro paese, tanta paura, prima paura per la pandemia, adesso paura per la guerra. Tutti temono e in particolare i bambini, gli adolescenti, gli anziani che qualcuno possa premere quei pulsanti e creare una guerra nucleare. Questa è la grande paura di oggi per una generazione come la nostra che non ha vissuto delle vere e proprie guerre e che non sa quello che può succedere. La paura più grande viene dagli occhi dei bambini, i bambini ucraini che continuano a mostrarci i loro occhi pieni di terrore. Tutto molto terribile.